dai un pochino di pratica in più e ci siamo e passiamo all'estate con windsurf complimenti ed ora in palestra beh, negli sport bisogna usare la testa e lui lo ha fatto e rivediamolo una festa spumeggiante auguri ma non ho capito, devi mangiare tutto te scusa allora vai via no io voglio un pezzo di seme pure io ecco no, eccomi te ne devi andare stai più in là più in là, bravo ma perché? ma chi sei il capo? tu, ma chi sei? il seme mio me lo faccio io ciao io sto in piedi da una mezz'oretta ma questo non va da niente sposta qua gira là metti qua a me niente mi stavo preparando mi stavo preparando ma questo non esce mi stavo preparando mi stavo preparando ma questo non esce sì dai, vieni a bere dai sì, bevo eh allora ma 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 l'avrai mica messa casata ma lo sai che non mi piace ma se te me l'hai messa casata ma e vai col ballo di gruppo pronti? via mi sa che questo gruppo sfonda questo invece si esibisce da solo dai vai eccolo là ecco era meglio se non c'era nessuno manco a riprenderlo che botta quanta gente su quel palco e come viene giù no, non la pioggia come viene giù il palco terribile rivediamo concerto live c'è pure il cantante rap eccalo là, vedi? ecco, una testa di rap rivediamolo via col wakeboard via col wakeboard un atleta poco rampante un atleta poco rampante no per la botta questo ginnasta spacca non avevo dubbi rivediamo la prudezza oh, che bella coreografia oh, che bella coreografia se dava fastidio la luce bastava usare l'interruttore questo operaio sa il fatto suo ecco, bravo, svita svita, svita ancora un po' ancora un po' eccolo perfetto come era il detto non piangere sul cappuccino versato ma è meglio